Deturpata, sfregiata, calpestata. Ci indigniamo quando gli animali selvatici sconfinano e arrivano in città, sempre per causa dell'uomo, e poi ci permettiamo di invadere la pineta di Castelfosano scaricando bustoni stracolmi di immondizia tra la vegetazione. Ancora una volta i gnoti hanno approfittato dei pochi controlli per inquinare la riserva. Proprio a ridosso del ciglio della strada, in viale della villa di Plinio, ogni 20 metri sono stati abbandonati dei bustoni neri. Purtroppo l'inciviltà della gente aumenta secondo il numero delle persone che frequentano questa pineta. Poi ovviamente la maggior parte dei frequentatori la amano e di conseguenza non farebbero mai una cosa del genere. Però ci sono anche una buona parte di persone che irrispettosamente amano abbandonare i rifiuti. Abbiamo aperto alcune buste notando all'interno prevalentemente materiale edile, si tratta in prevalenza di cartongesso. Ci sono le isole ecologiche, te li vengono a prendere a casa se tu chiami Ama, quindi la possibilità di smaltirli in modo corretto l'hanno. Però evidentemente trovano gusto proprio nell'insozzare e nel rendere brutto il nostro vivere in questi luoghi magici che sono appunto le pinete, i boschi o le aree verdi. Gli esponenti dell'associazione hanno stilato un elenco con diverse proposte. L'obiettivo è tutelare il polmone verde. Prima di tutto avvisare la popolazione, mettere dei cartelli relativi alle sanzioni che possono essere fatte alle persone. Perché se uno sa che viene sanzionato, magari già avvisato potrebbe desistere. Delle telecamere, forse ci sono, il progetto c'era, non so se sono ancora funzionanti, però ripristinare queste telecamere se non funzionanti, monitorare frequentemente la zona. Non c'è una gestione della riserva, bisogna istituire un ente riserva. Intanto, proprio in questi giorni, la pineta di Castelfusano è stata trasformata in un set cinematografico, scatenando però le polemiche di alcuni ambientalisti, tra cui Andrea Gasparini, dei tutors della riserva. Abbiamo ritrovato pezzi d'auto, chiazze d'olio e soprattutto residui di combustione proprio al limite del bosco, ha commentato. Ricordo che da un set cinematografico scaturì un incendio che arse 10 ettari di aria protetta sull'isola di Stromboli. Castelfusano, ha concluso Gasparini, non è cinecittà ma un'area delicata che dovrebbe essere maggiormente tutelata.